Il tubo del tubo era designato da Gioia Colombo in 1969, ma a quel tempo non esiste i materiali per creare i tubi di plastica per coprire l'opostrazione. L'interessante cosa di questo prodotto è che è il primo tubo che potete compone con quattro tubi diversi che potete mettere uno in un'altra, potete creare 11 combinazioni e credo che è qualcosa di rivoluzionario nel mercato di città.